Aumenti in arrivo per gli utenti di Etra. In questo 2016 la bolletta dell'acqua costerà di più. Una decisione che non dipende dalla multi utility ma che invece è stata imposta dall'alto. L'autorità nazionale che decide le tariffe dell'idrico ha stabilito un aumento della relativa tariffa per consentire di svolgere investimenti importanti nel nostro territorio. L'aumento previsto dunque verrà restituito ai cittadini sotto forma di interventi strutturali. Sono previsti per l'anno 2016 50 milioni di euro in investimenti che vanno da rifacimento della rete fognaria, la rete acquedottistica e manutenzioni continue nei 5.300 chilometri di rete. Possiamo dire quindi di un piccolo sacrificio degli utenti ma a favore poi di un beneficio notevole. Sì è un piccolo sacrificio per gli utenti ma è un sacrificio che comunque viene riversato nel territorio proprio per garantire continuità del servizio e sicurezza e garanzia nella qualità del bene idrico che distribuiamo. Aumenta insomma il costo dell'acqua ma lo ricordiamo diminuisce quello dei rifiuti che quest'anno ai cittadini di Etra costeranno il 3,5 in meno rispetto a un anno fa.